La stagione è molto dolorosa, dobbiamo dimenticarla e il fatto che siano arrivati tanti ragazzi che hanno voglia e voglia di far bene magari aiuta a dimenticare perché alla fine quando siano giocatori giovani vogliono mettersi in mostra, vogliono fare bene, non hanno una stagione passata alle spalle come ho passato io e altri miei compagni. Per quanto riguarda il Natore, il Natore ha fatto due promozioni di fila quindi credo che abbiano fatto una scelta azzeccata, poi sarà il campo a dirlo se sì o no, sarà noi aiutarlo soprattutto all'inizio però la scelta credo sia stata corretta anche perché penso era seguito da altre squadre importanti e per quanto riguarda il mercato oppure secondo me Angelozzi si sta muovendo bene. Alla vigilia della partenza per il ritiro precampionato parla quasi da capitano Massimo Donati, il centrocampista centrale probabilmente più esperto del nuovo Bari che sta nascendo. L'ex Celtic Glasgow sembra aver messo alle spalle le delusioni della retrocessione e vuole provare a dare il suo contributo per riportare i biancorossi in alto. Pur con un curriculum di tutto rispetto, due anni fa disputava i preliminari di Champions League, non sembra vivere infatti come un dramma la retrocessione in Serie B. Ci ho pensato anche durante l'estate a sto fatto che io non ho mai giocato in Serie B, se dovessi giocare in Serie B lo faccio senza problemi perché alla fine è il mio mestiere, giocare in Serie B non vuol dire avere una malattia, non vuol dire che ho qualche problema e i problemi della vita sono altri. Di conseguenza se devo affrontare la Serie B nessun problema, sono in una piazza importante, sono anche contento, ci sono tanti ragazzi, io dovrò fare un po' la guida insieme ad altri miei compagni e quindi non mi spaventerebbe questo fatto assolutamente. Grazie. Grazie. Grazie.